dovremmo esserci, andate a controllare vediamo, non mi sei ancora perso tra qualche istante tra qualche istante ci sono? mi vedi? c'è la pubblicità pubblicità di cosa? del Yakult no, Yakult te lo prendi? non lo prendo nello Yakult lo prendi già abbastanza nello Yakult non vuoi anche pagare per prenderlo sì, in effetti, meglio gratis comunque, comunque adesso, finita? vedi il titolo, la categoria le tag ok, la mia bellissima maglietta ok allora, ieri credevamo c'è la sua bellissima sorellina non lo so, non lo so domani lavora, probabilmente è andata a dormire eh, un ride un ride un ride della nostra cara Ellie Smith buonasera buonasera signorina Ellie Smith grazie ancora per il ride chi l'avrebbe mai detto? eh, io l'avrei mai detto ecco qua grazie, grazie e benvenuti benvenuti abbiamo appena iniziato e niente ieri appunto ero convinto che stavo per finirlo questo crash invece è spuntato un altro capitolo ora, non lo so sarà il capitolo finale? sì, no, boh chi lo sa lo andremo a scoprire una cosa è certa questo crash è bello anche tu Manu l'hai visto zio bello pure tu l'hai visto devo dire che è un capitolo interessante i livelli bonus ti fanno sudare perché sono veramente faticosi ma fortunatamente le vite lì sono infinite quindi le vite che metto da parte non le spreco ora, vediamo un po' come sarà questo livello questo stage qui tra l'altro ho notato Manu che i livelli hanno la loro difficoltà ma durano un po' di meno tipo a volte sono tre, quattro livelli al massimo prima invece i vari piani in Nexus erano tipo sei livelli cinque una roba simile hai capito? poi ho notato pure la cosa del checkpoint ogni tot che muori che appare in dei punti cioè le facilitazioni ci sono è tosto ma hanno messo molta agevolazione rispetto a quelli vecchi poi anche la gestione delle maschere come le gestisci quelle che ti fanno saltare più in alto che ti fanno cambiare la gravità cioè le meccaniche mi piacciono non è male non è male poi certo se poi vuoi fare quello che vuoi completare al 100% lì sicuramente sarà un incumo perché no, Ellie è veramente tosto è una brutta storia ehi là, ehi là grazie, grazie salutate Manina ehi là, Ellie buonasera 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 quando è che torni quando è che torni Ellie quando è che torni nel mio server e nel mio telegram nel regno anale quando è che torni che ci manchi ogni tanto parlavamo di te diciamo dove è finita dove è finita la nostra Ellie è sparita nell'oblio appena puoi appena puoi che poi magari riprendiamo quel discorso riguardo quella cosa che ti avevo chiesto con calma però quando vorrai tu capito? mi raccomando io non sono andato a cercare altre persone perché io credo in quello che sai fare visto che tu mi hai fatto vedere delle cose molto carine io credo in te nel cuore delle gatte no, no, no io credo nelle abilità della nostra Ellie quindi non vado non vado da altri individui non tradisco non tradisco comunque prendiamo il mio bel controller visto che la cara alti non c'è quindi dobbiamo fare tutto da solo vai controller alla mano perché diversamente da altri individui non so giocare senza le mani ho bisogno delle mani per giocare via la musica chiacchiere eh sì le mani sono importanti si bello fai il bravo non mi far mettere il bollino rosso non mi far mettere il bollino rosso chi sta dicendo niente occhio eh non è che lo mette non è che lo mette esatto esatto lo levo e lo metto lo levo e lo metto vero Manu eh lo levo ricordi antichi ricordi antichi chissà torneranno presenti nelle nostre vite ok riprendiamo la nostra avventura eccolo qua abbiamo abbiamo crash abbiamo il crash anal kingdom anal kingdom oh oi non mi fa mettere il bollino rosso vai bravo bambino non turbiamo non turbiamo la chat per favore ma non c'è atti siamo ansueto eh vabbè magari qualcuno portato da elli è un bambino eh un bambino prodigio però un bambino ma se uno riscatta atti del cibo però atti ce lo no no va tutto in pacca non si può lascia perdere non va dietro la lavagna no Manu non va dietro la lavagna io no non la lavagna Manu ha già dato Manu è già stato a scuola scuola di ladri scuola di ladri 3 ah si ah bellissima scuola di ladri 3 è un bellissimo ma lo sapete perché in scuola di ladri 2 non c'era il no bambino perché io tempo fa ho indagato esatto era in america a fare belli freschi con Christian De Siga era molto lontano dall'Italia quindi per questo motivo non ha potuto partecipare al secondo peccato perché il trio era perfetto e la mancanza di Lino Banfi si è sentita nel secondo bello però si è sentita la mancanza ma è il primo sempre però il primo è bellissimo il primo non si può dire nulla fantastico meraviglioso ogni volta che lo danno lo rivedo con un grande piacere tanto sono sicuro che altri non hanno manco visto questi quindi è ovvio comunque questi giorni riprendiamo dai che dobbiamo vedere Dragon Art se ti faccio parlare con un amico mio che ho il genere di film vabbè non lo so cosa gli piace vedere al tuo amico la forma moderna tutto per questo effetto il genere di film moderni quanti anni ha il tuo amico 12 34 vabbè che ti devo dire c'è gente che evita io non evito ma non evita tu nemmeno quindi meglio così ce li guardiamo noi ricordatevi che il cinema ha fatto un'evoluzione non proprio meravigliosa su certi aspetti ma le basi hanno gettato l'inizio del tutto non ce lo dimentichiamo e quello di cui parliamo noi non sono manco le basi perché dovremmo parlare delle basi ma tornare molto indietro uno in bianco e nero proprio robe che magari fanno anche a cagare quindi comunque allora spuntino veloce non mi fa mettere il bollino rosso per favore hai detto baffetto stai parlando di catanesi Manu sta parlando di catanesi non va bene spuntino veloce chi lo vuole uno spuntino veloce cosa vuoi Manu cosa lo vuoi lo spuntino uno spuntino che ci vuoi un sandwich vuoi un sandwich un sandwich che ci mettiamo dentro una bionda e una mora eh sì sì con una valanga così tra le gambe facciamo un giro prima di riunirci agli altri dove sono i chioschi di cibo cimicianga dove siamo qui guardate qual è questa città siete mai stati ma è Torino non credo ma dov'è la roba questa ahia mi sono appena disintegrato occhio il fuoco non è il nostro amico che dici Manu sarà il capitolo finale questo? magari sia guarda l'altro per come stava andando lo sembrava anche perché nell'altro mi ha fatto fare un livello dove misto ho usato tutti i poteri delle maschere quindi sapeva tanto di fase finale e invece sono finito qua siamo attenti stiamo molto attenti oh cio oh cio oh cio eh un secchio ragazzi un secchio killer pussa via uno due no tre e quattro check point ah questa è una maschera ok qual è questa? ah questa è ferma in tempo ok aspettiamo eh ok basta ahia quello è brutto cosa fa? ahia eh non ho fatto in tempo ahia mi ha buttato nel bidone sono stato riciclato quindi in questo gioco si viene anche riciclati buoni buoni dai fallo ok e adesso ci saluto è un po' nooo cazzarolo devo farlo dopo allora stiamo calmi uno due tre 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 quasi o pelo manca qualcosa per farlo bene si si tranquillo ora ci concentriamo sai che cos'è? volero bravo eh ovvio dragon fruit oh ancora eh si e abbiamo iniziato la seconda bottiglia la prima è finita grazie per il volero zio bealo si rimpresca e si rende le energie così diventa un uomo migliore tra l'altro domani proveremo quello che non abbiamo provato ieri cioè oggi facciamo finta che è oggi che cos'era Manu? il ristorante dei noodle il mini ristorante di noodle che io ci sono andato però era tardi era circa quasi le nove e qui da me fra le otto e mezza e le nove la gente ci si mette come degli animali a mangiare quindi il posto era piccolo era pieno sembrava proprio una mensa tutti affamati tutti là tutti là sbrodolarsi a cascare tutto per te tutto sporco ho sentito addirittura dei grugniti gente così capito un altro ruttone sembrava una taverna di quelle brutte e puzzolenti però gestita da cinesi e niente era pieno e quindi uno ha pure riso sento anche una risata uno ha fatto capito se è cinese è normale che c'è il riso esatto risata risolino una cosa che fa ridere capito ecco e quindi niente e quindi l'abbiamo preso in quel posto ma noi domani ci torneremo che si chiama one noodle ci torneremo prima però verso le sette e mezza e vediamo se riusciremo a trovare un posto stavolta se va bene poi faccio le foto vi faccio vedere poi ve lo faccio vedere capito Manu te lo faccio vedere soprattutto a te un bel piattone che si mangia cosa alzio bello? ti dicevo per caso il cuoco è romano cuoco? ma io a malapena ho visto senti io a malapena io a malapena ho visto un cinese parlare in italiano che mi ha detto siamo cinese in coma no no questo era vivo è come se era vivo siamo pieni adesso sì ma credo che può parlare quindi non siamo pieni tolmi un'altra volta e ho detto va bene poi ho detto avete un menù? voglio vedere no? ho detto guarda sul cellulare cellulare c'è tutto il menù e io ho cercato il cellulare ho visto e manco il menù di carta ce l'hanno il cellulare devo vedere e poi niente è raro ormai la carta non si usa più la carta non fa tendenza però dimmi che hai fatto ieri? quando sono andato in quel posto lì di quel paese che odio dire sì che paese è? Afghanistan il paese terromone terun 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 vabbè quindi che è successo? quando sono andato in questo posto il menù ce l'avevano di carta ma carta vera? sì interessante allora ti dico perché non si fa più con la carta ecco sentiamo sentiamo una perla di zio bello che intanto cerco di non morire no perché faccio la sera minchiata? perché? perché maledetto bastardo? adesso mi distrago sentire le perle di zio bello capito? questo è un momento topico hai capito? troppo anch'io me ne andrò tutti a fare le orge invece di stare con me preferite andare nei vostri are in piene di 20 mogli tutte pronte per voi magari ah c'è pure magari? no ma figa oh ce l'abbiamo fatta comunque checkpoint eh girardi non canta più oh c'ho eh oh che fa questo? ce l'hanno provato eh tornuti siamo attenti no eh no 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 saluta 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 no è di sotto no però no stoppato ce l'ho quasi riuscito aia male 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 tranquilli tranquilli prima o poi ce la facciamo madonna maledette bombe la dinetti fa male eh fa molto male la salute di rari non aspetta che qui ce n'erano altre eh avvicinatevi ok ce n'è un'altra? no almeno agiamo con calma capito? ok ce l'abbiamo fatta una vita posto ma comunque graficamente non si può dire nulla è proprio bello da vedere gran bel lavoro un po' questo è uscito anche su ps5 è vero? sì vabbè lui mi fa camminare lati ma perché? tanto va tutto dritto che me frega vuoi fare l'acrobata perché gli vanno lui la stai vedendo? eh io resto dritto ah no aspetta mi sono fatto trarre in inganno ma no lo sai perché? sembrava che la base si muovesse vero? sì e invece no è tutto fermo la base è ferma è il resto che si muove non vedi i palazzi era un effetto un effetto ottico quello che abbiamo avuto e infatti non tornava che cazzo me ne frega di muover invece no io devo muovermi per forza eh già tu sei fermo ecco ora sono di sotto era un effetto ottico assurdo infatti sembrava strano dico eh scusa qual è il senso di fare ma perché non ci va? scusa sulle palle assurdo ma devo iniziare dall'inizio proprio se non inizio dall'inizio non si attacca capito? hai visto la parte iniziale viola? eh se non vado lì non si attacca proprio le calcolano tutte eh vado qua adesso già dovrei essere preciso se non ho qua nooo cazzarola eh lo sei perso eh lo so lo so ho perso il ritmo vieni in tempo eh sì questo è il gioco questo è il gioco perfetto per fare una bella sauna proprio questo caldo proprio ah bello bello tutto calore che esce ti fa dimagrire quindi se volete dimagrire giocate a crash 4 ok questo dobbiamo rompere tutto allora stiamo calmi adesso la vita l'abbiamo presa adesso ah sì ormai è tutto in viscezza eh sì adesso quelli da sopra li posso attaccare secondo me quelle cose che girano mi fanno male se lo da sopra non credi può essere di no ma io nel dubbio me ne frego ecco l'abbiamo hai visto che vengono a rompere le palle non sentivo io ok 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 no dopo sei arrivato questa parte questa parte non scherza tu te la ricordi per caso no questa non quindi è nuova per te questa parte sì allora stiamo calmi cazza la pena me hanno visto questa parte è Ok, man. Calma eh E niente Ho spregato il salto prima E chi viene l'ansia capito E mi frego per questo E' la parte Di prima O la dimentico sempre Sta parte E' normale che le mele Se ne sono tante Allora questa è la solita parte Che mi dimentico Quindi stiamo calmi qua Allora Adesso Ok Ah c'è pure il checkpoint qua Allora Adesso Quelle casse Sono fattibili Via Allora Adesso a destra Sinistra Adesso a destra No Cazzarola Complessa eh Qui è molto complessa No Eh vabbè Cuno Eh il ritmo è grosso Qua da venire No Cazzo Stavo riuscendo Ma quante cazze E' lungo Madonna Mi piacerebbe un casino Ancora tanto avanti Sì sì Checkpoint Bonus Abbiamo che sicuramente sarà un dolore Allora Allora Ah, devo passarci lì. Vedi, questi sono quei livelli che ti ho detto, che se sbagli sei fottuto. Ah, sì. E quindi niente, devo rifare. Non so se le vite te le contava pure tuoi, sai che è in comune. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora vediamo se riesca a fare una cosa. No, no. Eh, non ci arrivavo. Senti, ma lì sopra ho visto che c'era una vita, mi era sfuggita. Vediamo se riesco a prendere la vita lì sopra. Il pezzo è corto, quindi è gestibile. Anche perché era arrivato alla fine. Vediamo se riusciamo a prendere la vita lì sopra. No, eh, li dovevo saltare. Ho perso troppo tempo. Ok. Scusa, ma quello lì sopra come ci vale? Perché le casse sono trasparenti, l'hai vista? Sì, ti spero. Cosa di contorto qui? Scusa, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Allora, proviamo. No, eh. Vediamo che delle volte quando muoio in questo modo è perché sto guardando intorno per capire il meccanismo. Però, boh, non vedo niente. Beh, niente, ho saltato male lì. Ho bene Red Bull, dici, ziovello? Eh, ma qui non c'è Red Bull. Oh, che è questa esplosione? Bisogna la pizza. Oh, è sempre così. Oh, prima ci riuscivo. Sto sbagliando qualcosa nel tempismo, ma devo capire cosa. Sì, sì. Forse è sbaglio ad andarci non rallentato a rallentare dopo. Per ricordarmi quello che facevo prima. Eh, questa volta è andato. Quindi doveva andarci rallentato lì. Allora, vediamo qui. Allora, vediamo qui. Eh, no. Ho perso tempo lì. Pensavo che era come la TNT normale che salta una volta e poi non salta. Invece quelle verdi salta in continuazione. E quelle casse però non le fai. Hai visto? Ho risposto con il resto. Wow, esplosione, mi sono salvato. Allora, adesso cerchiamo di capire. E come cazzo si fa Andrish? Vabbè, lo devo rifare. No, no. Devo capire. Perché secondo me quella do. Adesso quella è l'ultima che esplode. Non vorrei che quella sopra... Se io sto sopra quello mi porta in sopra, in cielo. Adesso quando esplode quella a destra che sto sopra una cassa normale. Forse se sto sopra quella cassa e salta al momento giusto mi dà una spinta. Non mi viene da pensare altro. Non mi viene da pensare altro. Sì, sì, secondo me è quella. Aspetta eh. Anche perché ho visto che lì c'è una cosa che fa saltare verso l'alto, nell'ultima. Questa è una roba di tempismo proprio assoluta. Questa è una roba di tempi. Ah, no... Ma perché esplose? Non capisco perché esplode quello che sta qui Eppure rompo quella sopra Forse quando sto qui O devo rallentare qualcosa Eppure devo scendere al lato Rompere quella sopra E poi fare quella che salta Hai capito? E tu hai visto che sopra quella normale c'è al centro quella che salta Che dà la spinta E quella mi darebbe la spinta per andare lì sopra Deve essere a forza così Cioè da completare non è difficile come altre che ho fatto Io perché mi sono fissato che lì c'è una vita Se no l'avevo già a fare E no niente se qui non ci vado rallentato dall'inizio Ci graverò sempre in quel punto Ok Ah 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 No 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 Volevo andare in unicozzo Ah ma è esploso quello Quindi quello dove un po' esplodere lo stesso Ma ci posso riandare? No No non ci fa riandare Eh vabbè pazienza Eh pensavo che potevo riandarci tutte le volte che volevo Invece niente Quando lo completo lo da come completare Eh vabbè pazienza Allora questo Ah questo è l'inverso Eh Se le rompe i coglioni non mancano mai Io mi sa che me ne vado Ah ok Notte mano Boom Aspetta Devo fare una cosa Ok Eh peccato Volevo prenderla quella vita Ma è andata così No no Caccerola Ma che è? No madonna Di qua devi andare Aspetta che risale Allora Adesso qui Stiamo calmi eh No L'ho storto Dovevo tornare indietro Se tornavo indietro lo fregavo Eh sì Dovevo palesemente tornare indietro Oh No la vita ho corso, eh vabbè niente, pazienza, ah ma sempre più facile qui eh, madonna mia, questo gioco sta diventando un po' esagerato però eh, no cazzarola, ce l'ho quasi arrivato, ah lì è la fine, madonna mia, che sudata ragazzi, ma meno male che sto in canotta eh, sennò qua veramente mi fracicavo, peccato per quel livello bonus eh, volevo provare a prendere quella vita ma è andata come è andata, però che dire, l'importante è che abbiamo vinto no? Ok dai, next, uff, che no comunque se volete dimagrire giocate a crash che vi fa fare una bella sauna che non ve la scordate più, Ok, ecco la prossima, ora di punta, ah tocca a lui stavolta? O lei? Cioè in quanti ci vanno? Il delirio? Vi è un'orgia? Chi devo usare adesso? Lui, lei, loro? Chi è il protagonista in questo livello? Lui? Vediamo se questi geni sanno almeno affumicare una bistecca. No, vediamo se questi geni sanno almeno affermi qui eh? Chi è il protagonista in questo livello? Chi è quello? Chi è l'obiettivo? Chi è un amico? Chi è l'anima? Chi è un'anima? Chi è un'anima? ti metti ovunque da sto bastardo io me la do a gambe come la mettiamo vabbè qui devo semplicemente fare così e salta va bene calma dai eh ho sbagliato a colpirlo di lato non dovevo colpirlo di lato ok torniamo qui eh no ormai era andato 1,2,3,4 tieni premuto è quello basta saltare in testa ok vita recuperata adesso prendiamo questo vieni stranzone ole russa via ok adesso salta tieni premuto ok adesso questi 1 aspetta 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 fammi prendere la maschera ok ok non c'è altro qui da prendere oh sì calma ok bye bye ok allora posso aprire una catena di locali ok 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 quello lo ignoriamo quello che ha una ha un nitro che cazzo era là no una cassa normale allora adesso questo dobbiamo fare così e rompiamo questo a posto check point quello che ha un nitro no grazie boom occhio a questo calma vabbè qui dritto no per forza eh ci hai provato eh mi volevi fare il culo maledetto e invece oh cazzo no madonna ce l'abbiamo vista brutta eh ora io potrei anche distruggerle in una botta secca ma se c'è della tnt o della nitro qua teniamo male ok non c'è a posto sì ma un check point ce lo date grazie dai me la rischio giusto perché sono vicino al check point allora vediamo un po' devo andare a destra adesso che mo ci va Io la prenderei anche Quella però Abbiamo pure il mezzo che cai di sotto Grazie Me ne frego, me ne frego, guarda E' contento delle umili vite Che posseggo, guarda Ma se apro una catena di ristoranti Perché l'ho vista nel mio futuro Mi fa male la testa Uff Aspetta, qui cosa c'è? C'è qualcosa? No, non mi fido Se c'è qualcosa poi La rischio Cazzo non la c'è qui Aspetta, quello mi ammazza Dai, fai la mossa, dai Che c'è qui? C'è roba di là? Ah beh, è un diamante Vabbè, sai quanto me ne frega Oh, cioè Questo non dovrebbe cadere, no? Ok Ok, non posso Ok, ora tocca a lei Ah, è un gioco di squadra Vai Aspetta E tu che fai? Sei amico? Ah, non posso Aspetta No Non volevo fare quello Non volevo fare quello E vabbè No Ma non la può fare lei la cosa Che si abbassa No, quanto pare no Quindi non posso prenderlo Quello oggetto No, non la può fare quella mossa So che poteva farlo Che si abbassava Come fa crash Invece A quanto pare Nulla di nulla Ok Almeno lo sappiamo Aia Magari un calcio meno vigoroso No Come lo prendo quello Niente Abbia Asha un star Niente Salto doppio Non lo fa Devo saltare Al momento giusto Dai Ma così è una morte gratuita Eh sì Così sì Però Così è proprio Una morte gratuita Niente Eh Ho voluto troppo E l'ho pagata Con calma È la dolla Come ci vado Lì sopra Ah ecco Ho un posto Siamo arrivati Il pensiero Ecco È certo Mi pare giusto Eh vabbè Per una vita Che guadagniamo Una vita Che perdiamo Aspetta Niente Provate a tenermi La maschera Ma non ce l'abbiamo Tanto Niente Lasciamo stare Va Quella cassa È meglio Che ce ne freghiamo Perché se no Qua Rischiamo di perdere Tutte le vite E non è proprio Il caso Non so nemmeno Se questo è L'ultimo stage Quindi Lo vorrei ipotizzare Perché prima o poi Deve finire Questo gioco Però Staremo a vedere Basta così Che sei visto Sei visto Allora Che devi fare Tu Ok No Così ci muoio Ok Ma un bel checkpoint Mai Non è che mi offendo Se fare un checkpoint Cosa è qui Che dovrei fare Ah lì Sì Molto bello Checkpoint Ah la buon'ora Uh No Vabbè Ce l'avevo quello Uno Due Ok Mazza Vicinissimo Questo Ok No Eh oh Eh Non è per salire sopra E mo qui che devo fare Ho butto di sotto Ah ecco Dicevo io Ho capito Suicidarsi Ma fino a un certo punto Troppo presto Eh Troppo presto Troppo troppo presto Oh Sì, che fai. Ok. No, io dovevo scendere, gazzarola Beh, non si aggrappa Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non Sì, devo sottare di lato, vedi? Checkpoint. Ok, calma, eh. No, niente, vabbè. Vabbè. C'è un po' di traffico, ragazzi, qui, eh. Ma solo un pelino, eh. Oof. Ufff Niente, non di culo Ovviamente dovevo prima sbloccare quello e poi saltare dopo Eh, in questo gioco il tempismo è tutto Eh, niente Oh! Ullalla, mi ero già visto morto Ah Eh, alleluia Che non mi piace per niente Eh, dimmi che là giù c'è un checkpoint, su Beh Ma Sai, dovevo saltare in quella parte a destra, eh Eh, sì Ho proprio questo presentimento Vai, vai, vai Sì 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 E' niente, per pollo. Eeeh, con pazienza. Sì, sì, sì. Madonna mia, la concentrazione è totale qua proprio, è proprio totale, però dai, pian pianino, pian pianino stiamo proseguendo. Che sauna ragazzi, che sauna che stiamo facendo, fammi bere un po' di dragon fruit, un po' di essenza di yuki. Allora, ho preso le cassette, ne ho una nuova? No, niente, va bene. Ah, cassa in fuga, quindi l'ultimo di qui. Ora, la domanda è, è l'ultimo, è quello finale? Vedo Cortex, chi lo sa? Eh, ora lo scopriremo. No, mi sa che qui devo usare Cortex. Vabbè, ma ovviamente il suo gioco non finisce mai. Vabbè, Cortex è un po' complesso comunque. Non è che mi ci trovo benissimo con lui. Però vabbè, vediamo un po'. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah no, lui c'ha questo, è vero. Me l'ho dimenticato. Vabbè, 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 vabbè. C'è questo. Checkpoint. No, era l'altro dove ho bremer. No, ogni volta mi confondo con i tasti. Ok. Lasciala perdere la maschera. Tu per prendere la maschera ci devi morire. No, 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 no. Oddio, è terrificante A meno che... Aspetta, eh Se riesco a fare una cosa, aspetta No Ci devo riprovare Se riesco a colpire quelli, ti facilito la cosa un casino Però ci devo riuscire No, eh, l'ho fatto in tempo No, era l'altro che dovevo premere No, ma si può fare di lato, no? Va bene Oh Eh niente giustamente dove dovevo finire di sotto No Pisa che non faccio quella mossa lì No Di poco Perché avevo paura di cadere di sotto Per cui sono andata all'indietro Vabbè vai Riproviamo No Quello è per sparare Checkpoint Calma eh Com'è qui? Uno Due Tre Quattro E' sempre così? Uno Due Tre Quattro Ok Qui Uno Uno Ok sempre da uno Ok Calma eh Sempre da uno No Cazzarola Non è manco difficile questa Quanti erano tre No qui sono due Uno Due E qui sono quattro Qui è uno Concentrato eh Qui pure è uno no? Si Ok Ok Posto E' un checkpoint Quello si Eh no però Non devi premere Quello Ok Eh niente Ci c'è Con qui Oh E qui rimango Siacciato Che cazzo devo fare? Fare lo scatto rapido Praticamente Per forza Eh no Dove essere un pelino Più veloce Però No Non volevo fare quello Devo ricordarmi Con questo si spara E con quello si fa La cosa in avanti Si vabbè però Se facciamo ste minchiate Qua E' proprio regalare vite Allora calmo Ok Ok Che cosa c'è? Non c'è nulla Ok Dai vai su vai su Eh vabbè Questo spari Con questo vai in avanti A parte che posso sparare Io potrei anche ignorarlo Questo E sparare direttamente Con questo Così non mi confondo Siamo prima Perché se no qua Mi confonderò In eterno Non c'è compromise Ma Eppertra Oh Deve Si Bis Allora, ma qui devo scendere e fare lo scatto Non è facile, ma ci devo riuscire No, cazzo No, cazzo Ok Ok Allora, ricordiamoci Allora, eccoci Stardo Ok 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 Ma perché? Ma mancava poco cazzo Ogni volta che arrivo verso la fine Ah ah Eh io la prendo sul ridere ormai guarda Ah 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 Meglio ridere che piangere cazzo E vai Di nuovo di sotto Bellissimo Proprio quello che desideravo Dai dai Crash Dobbiamo fargli il culo a quel balordo Non puoi mollare così Hai capito? Pare il furbacchione Eh vabbè Niente Eh su quelle scatole pure rompono le balle però eh Mi confondo nel ritmo No eh niente Salto doppio non devo farlo Ah Pagnotate . Sì Dalla Niente Sì Dalla Sì Dalla Sì Sì Dalla Sì E dai però Oh ma quanto è lungo sto percorso È un'agonia pazzesca Non ci vuole arrivare Cioè ma è tutto un livello così Mamma mia No ho fatto una cazzata Eh la scatola maledizione No cavo che liscio La mia domanda è quando arriverò lì Sarà finita o dovrò anche affrontarlo Perché se è così Devo cercare di portarmi qualche vita Altrimenti qua Non andiamo molto lontani capito Eh no Ho finito? Ho vinto? Oh Madonna Vabbè mo quindi devo affrontarlo? Beh almeno qualche vita l'abbiamo portata C'è un altro modo per spezzare questo ciclo infinito di scontri tra noi Posso tornare indietro dove tutto è iniziato Posso cancellare il mio peggiore fallimento Si riferisce a te Crash Ciao ciao bendy cute Dai su dopo quello che ho fatto E diamo un senso alla cosa E ora dovrò fermare Madonna un altro capitolo E' una cosa incredibile Ok andiamo Lavorazione nitro Cortex ma non potevi accettare che eravamo amici e basta No eh C'è proprio sta fissa che mi vuoi fare il culo Non te la levi Sarà un suo feticcio Non lo so Ancora voi Ma quanto siete appiccicosi Non capite l'antifona? Chi si è inserito nella mia frequenza personale e segreta? Cosa? E chi è questo? Questo impostore! Non riesce a riconoscere la tua stessa faccia? Vengo dal futuro per metterti in guardia Se cerchi di trasformare Crash Bandicoot nel generale del tuo esercito fallirai La macchina rifiuta il suo... Padro! Buzzardo! Embryo! Alerta le guardie! Perché non mi do mai ascolto? Ok Ok Ascoltate bene schiavi C'è un falso me a piede libero E sospetto Occhio di porcini Labbra come banane troppo mature Pelle color talpa iperica Una copia perfetta Così Ok 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 No, cazzo No, cazzo No, l'ho premuto il tasto Palle Aspetta No, cazzo No, devo stare abbassato lì No, cazzo No Ho paura che dovremo finire a fermare vita La situazione non è delle migliori No, cazzo Eh, cazzo Ho paura delle bombe Questo è esitato No, cazzo No, cazzo No Ogni volta me lo scordo sto particolare Eh, che devo cambiare gravità altrimenti rimango fotturo Calma eh Okio Okio No Calma Calma Donna mia No No Cazzarola C'era pure il checkpoint lì Cazzo 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 Ehm Cểmso Ehm Cazzo Ecca Ah, lla Cazzo 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 Con culo, vuoi prendere il checkpoint, va Stia crocchi No, c'ho Aspetta Vabbè, esplodo, lascio stare Vabbè, esplodo, lascio stare Vieni ci, no? Uff, c'è paint Guardie, avvicinate la sicurezza, sfroteggetemi No Cambia pure quello Vieni ci, no? L'ho ucciso? Dai, ma è immune Ah, bella la vita quando si è immune, eh Maledetto Vabbè, dai Non sono eterni quelli, vero? Ok, no, non lo sono Ma mica lo fa, eh, questo bastardo Vieni ci, no, non lo sono Checkpoint Ok Calmo, calmo No, cazzo, devo fare il doppio salto No, ma che è? Cazzo, ero sicuro di esserci arrivato Eh, la distanza mi ha fregato Ok Ok, questa volta ci siamo, eh Allora No, maledizione Eh, niente Oh, a volte ci arrivo con un salto A volte con due, eh Oh, a volte ci arrivo con un salto No, e dai, appena lo sfioro. E' niente, vabbè, riproviamo, eh sì, buonanotte. Sigh. 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 Vediamo un po' come è questo bonus. Eh, lo sapevo io. Sigh. 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 2 1 ok appos WUH Sous No, devo atterrare lì Cazzo, ero convinto di no No, dai però, così sono morti gratuite Così è proprio andartela a cercare, cazzo Cazzo, cazzo No, cazzarola No, cazzarola Questa non la posso prendere, vero? No, ok Scusi con calma, dai, tranquillo Calma Fa un culo Sto perdendo anni di vita per finire questo gioco Madonna Devo dire che questo Crash 4 non scherza Come difficoltà, già solo finire i livelli è una bella sfida Uff, cioè i primi tre io me li divoravo come niente A meno per quanto riguarda finire i livelli Mentre questo Sto è tosto, sì Vabbè, queste sono delle cassette che non ne ho altre Quindi andiamo avanti Ok, vai Tunnel tossici Però per come sta andando mi sa che dovrò farmare qualche vita Non so se riusciamo a finirlo Cioè Ne abbiamo pochina I livelli sono tosti Cioè Questo qua comunque è stato bello frustrante come livello Guardalo lì il nostro povero Crash PS1 Com'è bello affaticato Perché hai... Ho scelto proprio Bandicoot Chissà, magari con un bombato sarebbe andata diversamente Bra, bombati Questo Bandicoot è forte, intelligente e soprattutto le armi Come ando, come ando, come ando, come ando Uh No Tutto da gas Che bello Come ando, come ando Niente, eh Cazzarola Di volta mi fotto lì, eh Sigh Devo concentrare Mi concentro bene Se non mi concentro Continuerò a fare minchiate Il discorso è molto molto semplice No, cazzarola Madonna, tutto da gas Ma che bello Eh vabbè Ma che bello Eh vabbè Grazie a tutti. E niente. 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 E no, per favore, eh. Non esagerare adesso. Ok. 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 Bello, mi manca il fuoco eh E non è fuoco a micro Avvicinati Ok Diventa elettrico Ok No, no, non devi fare questo Assolutamente no No, Sarola, non l'avevo vista Ah, che pazienza Vuole una pazienza in questo gioco, guarda No Sarola, volevo saltare su quell'affare Calma Oh Oh No, me ne frego, tanto esplodo male. Dai, lascia stare. Incazzarola! Sento uno strano odore di bingo alla braccia proprio. Eh sì! No, cazzo! Madonna mia, sempre più complicata quella situazione. Cazzo! Oh no! Oh no! Ehm! Aspetta Checkpoint Non sono mai stato così contento di vedere un checkpoint Mamma mia Madonna Questo bonus mi sa che sarà terrificante Allora vediamo un po' Ahia, questa è una cazzata Ho fatto una cazzata di quel tremendo Devo concentrare mi devo Eh no Direi che questo non è proprio concentrarsi però Uh Niente eh C'è quell'attimo però Devo trovarlo Quel preciso attimo In cui io riesco a colpirli insieme Non è facile ma c'è Io lo so che c'è Sì, direi che non è esattamente questo però No Riproviamo No Che pazienza Riproviamo Riproviamo Oh, niente eh Per l'attimo lì non riesco proprio a prenderlo eh Ci provo ma ogni volta È praticamente un decimo di seconda Niente, sbagliato anche adesso È una frazione È proprio una frazione È proprio un decimo di seconda Sbagliato anche adesso Madonna c'ho un'ansia assurda No dai Merda Merda Mad Peccato eh Peccato perché ci stavo riuscendo Dai no No, c'è un decimo di seconda Oh, 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 c'è un decimo di seconda Io Grazie a tutti No dai Palle Sto pezzo è un incubo Sto pezzo è veramente un incubo E niente Ho rotto quello sbagliato No Sto pezzo è un incubo La mi devo mettere qui No Sarona devo andare a destra E niente Sono stato troppo dritto Vabbè E niente E niente Sigh Sigh No dai Ma la smetti di fare così Cazzo Cioè Faccio il fenomeno in alcune cose E poi mi fotto così Che noia Ma la smettere qui E niente Oh, niente, eh? Eh, no, niente da fare. Un culo. Voglia chi molla, voglia chi molla. Proprio da arte. Voy a ser el más rápido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. C'era arrivato, cribbio. Ce l'avevo fatta. Ce l'avevo quasi fatta. Maledizione. Eh, vabbè. Ce l'avevo quasi riuscito. Mi mancava l'ultimo saltino fatto bene ed era fatto. Un apete per l'ultimo sinistra. Un apete per l'ultimo sinistra. Un apete per l'ultimo sinistra. No Che palle Perché a volte vai a volte non va Non capisco Veramente basta sbagliare il millimetro qui E nulla Basta che sbagli il millimetro E niente Te l'ho detto basta che sbagli il millimetro Devi essere proprio di una precisione disumana E non è facile Non è facile soprattutto perché se fai un errore Rifai tutto da cavo Qua la TNT strategica proprio La TNT proprio strategica Messa proprio nei punti giusti Eh niente Eh non devo sbagliare una virgola eh Eh Preciso direi Pfff Che cazzarola ma perché Che palle quella parte Le faccio a capire quando il salto giusto è sbagliato E questa è la cosa che mi fa innervosire Ma adesso l'ho fatto bene però Eh Riescerà a capire proprio il punto preciso Con cui farlo Eh niente Ammetto che stavolta La cazzata l'ho fatta io Si poteva evitare stavolta Stavolta si poteva proprio evitare Io non mi devo far prendere dal panico Perché se mi faccio prendere dal panico Faccio cavolare Ah, che pazienza E niente Quando faccio così E devo riprovare Quando vado lì A fare così Magari si ferma Però voglio provare a fare il doppio salto Quando vado lì Si Voglio vedere se facendo il doppio salto Lo blocco in un certo modo E riesco a dargli poi una direzione Sì 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 No dai Niente no Non posso manco pensarsi minimamente a fare il doppio salto Anche perché col doppio salto vado più in alto E andando più in alto è ovvio che vado a finire lì Eh sì Direi che è da evitare questo Dai cazzo però Niente sono bloccato in quel pezzo Nel pezzo proprio niente Prima di tanto lo superavo E mo adesso mi sono bloccato lì E niente Vabbè giustamente Era da un po' che non ci morivo lì Doveva succedere Mi pare giusto E' da un po' che E vabbè E a volte sono troppo vicino E a volte sono troppo lontano Eeeh che pazienza Nooo ce l'ho riuscito cozzo Mannaggia a me Mannaggia mi faccio prendere dal panico Sì probabilmente l'ho anche schivata l'esplosione Sì probabilmente l'intensatore E' da un po' che E' da un po' che E' esatto Allora Beh niente Io volevo provare ad andare a sinistra E non ci vanno Eh vabbè No no Non devo sprecare la vita Quella si può prendere Che faccio La spreco così Eh vabbè no Stavolta proprio Il tempismo era sbagliatissimo Eh oh Non puoi sbagliare Manco di un millimetro Qui Vabbè Sono comunque le parti finali Quindi È giusto È giusto Eh niente Lo devo lisciare Lo devo lisciare ogni volta È giusto 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 E niente, riproviamo. Eh sì, buonanotte. Stavolta peggio che mai. Ma se quel fuoco sotto lo rompo, no? A parte il conto alla rovescia. Eh, ma io ci voglio provare, sono curioso. Magari così è più facilitato. Eh, vedi, mi sa che è più facile così. Sì, sì. Ma perché non lo fai il salto lungo? Io questo vorrei capire. Se riuscite a fare il salto lungo andrei sopra a prendere anche quella vita. E questa cosa non la riesco proprio a capire. Sì. 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 Eccolo lì. Me l'aveva fatto stavolta. Eh, stavolta me l'aveva fatto. Eh, sì. Non so come, ma stavolta l'aveva fatta. Ah, vabbè, sono stato troppo vicino. Eh, sì. Oh, stavolta me l'aveva fatto il salto lungo, eh. Non so come. Vabbè, dai. Ci riproviamo. Allora, vediamo il tavo. Non è niente, eh. Non è quello che devo rompere Non c'è quello sopra Siamo cadere mia No cazzarola no Devo fare il salto lungo lì L'avevo dimenticato L'avevo completamente dimenticato Ciccia Capta Era da un po' che non ci arrivavo lì Ci può anche stare che me lo dimentico Ci può stare assolutamente Che me lo scordo No cazzarola Che l'ho riuscito dai Mannaggia a te mannaggia C'è una tendenza ai suicidi Secondo me il caro Dingo Un po' sì È un po' depresso Crash Troppo vicino Troppo 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 vicino E proviamo Doh No 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 Sì Un culo Che l'abbiamo fatta Madonna che parto Mi sono chiuso perché le vite mi servono Sto a corto Mi sono chiuso perché le vite mi servono Adesso devo andare Mi sono sicuri che devo andare Mi sono sicuri Grazie a tutti. Ma come? Io sono salito sopra. Ma, vabbè. Niente, eh? Non ce la fai. Sì, va bene. Ah, vabbè. Ah, no. Allora, fammi contare. Secondo me sono numerati. No, eh. Vabbè. Allora, fammi contare. Scef. 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 Eh no, c'è la TMT lì, non sono scemo. Cos'è non dovrà finire, poi? No, dai, cazzo, ce l'ho arrivato. Maledetto bastardo. Ma che cazzo? A me pensavo che dovevo andare avanti. Vabbè, ho capito completamente male, dai. Pensavo che ero una di quelli con il percorso da slittino, tipo, dovevo scivolare sulla rampa invece. Vabbè, mi sto confuso, va. Direi che quasi alle 5 del mattino si sta a confondersi leggermente. Deve cagare, vai. Dai, su. Niente, ciapà. Più forte di lui, deve saltare forse sulle casse, sto stronzone. Eh, ho visto il movimento, eh, lo so. Purtroppo c'era il movimento e mi ha fregato. Non me l'aspettavo, dai. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. No, cazzo, devo andare dritto, non di là. Eh, me ne sono accorto che era troppo tardi. Fanculo. No, lì quando salto sono morto. C'è poco da fare. Quando decido di saltare, sono morto. No, dai! Non l'avevo visto quel pipistrello. Cioè, ero così concentrato a vedere il pavimento che me ne sono fregato di quel pipistrello. Oh, proprio opposta. Proprio precisi, precisi le mettono le cose, eh. Una precisione maniacale. Oh, davvero, eh. Chi fa questi giochi va oltre il geniale. Proprio il sadismo è a livelli inumani. E niente. È bello volare, eh. Stranzone. Oh, davvero, 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 davvero. Oh, davvero, 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 davvero. No, dai, che liscio. Che liscio. Ma quello era un liscio illegale, comunque. Sì, sì, non si può dire il contrario. Era assolutamente un liscio illegale, quello. Ho capito che sono il re del liscio, ma qui... Si esagera, eh. Calmo. Ok. Niente. Eh, lo so. No, hai fatto la cazzata e l'hai pagata, dai. C'è poco da dire. C'è poco da. C'è poco da. Cazzo, cazzarola. Cazzo, cazzarola. Sì, ma come lo prendevo quello, scusa. Ora mi sfugge. Quello andava verso il basso, non verso l'alto. Non mi è molto chiara questa cosa. Eh, no, la cosa non mi torna. Vabbè, le vite per farcela ancora ce l'abbiamo. Eh, vabbè, niente. Ah, pazienza. Fare questi errori del cavolo mi dà una rabbia, guarda. Ma perché l'ho voluto prendere quella cosa? Erano solo mele, quelle. Eh, l'avevo scambiata per altro. Speravo fosse una vita, invece no. Era solo quello che rimbalza, che non mi serve a niente. Allora, se mi gioco bene acu acu, possiamo fare cose simpatiche. Tutto dipende se me lo gioco bene oppure no. Uno l'abbiamo spregato. Eh, uno l'abbiamo spregato. Eh, siamo pure morti. Perfetto. Oh, per il maledetto pipistrello, eh. Non riusciamo a gestire bene la distanza. Ehi là, grazie per il ride. E benvenuti. Eh, sono in una fase un po' concentrata, eh. Comunque, grazie ancora. Ho fatto un ride a quest'ora e non me l'aspettavo. Uff. Allora, torniamo a noi. Grazie per il follow. Thanks for follow. Prendiamo quello. Ecco. Questo lo prendiamo così. Forse, no. Ehi, niente, ho fatto la cazzata. Siamo calmi. O là, o là. Allora. Calma, calma. No. Maledetto pipistrello. Tra l'altro era anche la fine. Eh, è tosto, è tosto. Very, very hard. Ma noi non molliamo. Ecco. Una bella vita che ci fa sempre piacere. Very, very nice. No. Ehi, ehi. Ho c'ho. Ho c'ho, eh. Con calma, con calma. Si fa ogni cosa. Oh, cazzo. Il fuoco fa male, ragazzi, eh. Allora, colpiamo sto pipistrello. Che dice, eh? Ecco, grazie. Uff. I play all crash. This is ultimate crash in my list. Eh, sono poliglotta oggi. Dai, dai, stronzone. Vieni qua. Allora, stiamo calmi, eh. Calma, calma. Ocio. Ocio. Ok. Ok. Calmo. Non è successo niente. Possiamo ancora recuperare. Stai tranquillo. Ok. Oh. Nice. Ok. Let's go. Uff. Don't worry, don't worry. Allora. Questo dovrebbe essere l'ultimo livello. E poi... Final boss. Ce la possiamo fare, eh. Se stiamo calmi, ce la possiamo fare. Keep calm. Ok. Let's go. Buda bop. Non mi troverai mai, Neocortex. Questo castello è un labirinto e solo io ne conosco tutti i passaggi segreti. Eh, tutta una cazzata. Ah, innanzi. Non mi cazzia levato farro. 2 1 1 2 il karma niente ok ok aspetta ma quello sparisce ok no no one moment ok no cavolo voglio prendere la vita ahhh devo prendere una vita l'ho persa dai dai ultimo livello no e niente l'ho gestita male i'm confused no 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 vabbè che cazzate le faccio io però queste sono stronzate eh perdere così però no no non ho visto il muro eeeh e non c'è un trend e vabbè niente prima ci stavo anche riuscendo tra l'altro e due e e e e e e e Grazie a tutti Quello è il pezzo Donna Stare attento a questi Grazie a tutti No dai Sono distratto No dai No dai No dai No dai Stava davanti No dai No dai No dai Ma come? Sono salito sopra Ma fatta morire No dai 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 bonus ultimo tra l'altro ultimo bonus come faccio? e quelli lì sotto come caccia faccio a prenderli? impossibile ma come faccio a prendere quelli lì sotto? che cazzo dovrei fare? oi cazzo dovrei fare? non ce ce non 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 Ho perso troppo tempo Troppo troppo tempo perso Che cazzo però E beh, vorrei giusto Sì, ma non capisco quella parte lì come devo rifare No, non ho fermato il tempo, cazzo Sono completamente distratto E vabbè però Sì, non ci siamo E niente Sì, non ci siamo Sì, non ci siamo Sì, non ci siamo Capisco che è l'ultimo, eh, però Ho fatto prima salire lì sopra E prima ce l'ho riuscito E niente, eh Eh, vabbè Ah Niente, questo troppo tempo Non più di due salti No, non volevo fare quella mia Ah, ma quindi non posso farlo il salto Ah, ma quindi non posso farlo il salto? La cosa non mi torna Ok, è fatto così Ok, è fatto così Come cazzo? Come cazzo devo fare qui? Ah, mi fa andare lì sopra Oh, interessante questa cosa Quindi se lo rallento Quello effetto lì mi fa andare lì Bene a sapere Eh, niente Eh, niente Bene a sapere E niente Oh, vale a sapere Ah, lì Ah, lì No, no, no È lì ok 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 un cuore Come faccio a salire lì sotto? Non riesco a capire tutto. Alcune volte ci riesco, però non so come. Cioè, mi devo dare una spinta con la cassa giusta, però. Non è proprio facile capire quando è il momento giusto. Oh! 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 Alla prossima. Oh leял. Ero! Ero! Devo elevarlo prima. Appena mi sto allontanando devo elevarlo. Cazzarola era così fatta. Per cui ho esitato? Perché sono tornato indietro? Perfetto. 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 No dai. Non mi ha dato il balzo. Ma come l'altra volta me lo dava? Niente pure lì è una cosa che va in un punto preciso. Se sbaglio il tempismo pure là lo prendo in quel posto. Perfetto. E niente, io ci ho provato. Questo salto non riesce sempre. Nelle volte riesce altre volte no. Ditemi perché ma funziona così. Perfetto. 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 Eh vabbè, buonanotte. La mia concentrazione ormai è ai massimi livelli, sì. Non lo nego, non lo nego. Merde E niente, non lo fa il salto lungo. Eh, non lo so, non so come fare. E niente, non lo so. E niente, non lo so. E niente, non lo so. Insomma, se adesso scendo lì, che cazzo faccio? E niente, non lo so. E niente, non lo so. E niente, non lo so. La donna ce l'ho fatta. Oh, cazzo sì! Vai così! Let's go! Let's go, ranger! Ecco, perfetto. Dai, per un soffio! E niente! E niente, non vuole uscire. No, direi di no. Direi proprio di no. E niente, non vuole uscire. 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 Squadrona! E niente, non vuole uscire. Sì, non vuole uscire. Quando hai uscire. Dio! Dio! Sì, non vuole uscire! Andai, cazzarola! non c'è niente c'è niente no cazzarola perché anche tu no 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 che cazzo significa? oh e come ci passo lì? mi stai prendendo per il culo? no 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 ok ok no 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 Eh niente. Ehh sono stato troppo lento. Aspettiamo. Alla prossima. 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 è brillante Non lo puoi sprecare così il sangue. Panna. Dai cazzo, ma che è? Un parto. È un incubo sta cosa. Non ce la facciamo, te lo dico. Come cazzo dovrei fare, scusa. Come faccio? Cazzo. 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 E niente, e si continua a morire. E vabbè, buonanotte. E' tremenda, tremenda forte sta parte. Vabbè. Vabbè, buonanotte. No, non devi fare quello. Vabbè. 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 Che cazzo devo fare? Niente, devo andare lì. Madonna che parto. Vabbè. 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 Cazzo, allora devo premere quel tasto. No dai, lì non ci devi andare, ragazzo. Vabbè. 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 è un po' rincoglionito mamma mia che è sta roba oddio vabbè dai facciamolo madonna mia ragazzi che parto non posso fallire fallire in modo diverso intendo cioè prima con solo 6 vite ma dove cazzo vado io non Sì Sì andiamo quanto è lungo Dai Ma io me lo sentivo guarda Me lo sentivo che l'avano fatta sta stronzata Eccolo lì Ok Vieni Ok Vieni 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 che pezzi di merda eh che nascondono una cosa del genere qui che 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 cazzarola mi son fatto prendere dalla frenesia eccolo lì che 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 Dai, cribbio! Non è già lui sui saltini del cavolo. Oh! Sì. 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 Che cazzo serve sta cosa? Allora? Beh. Allora. Allora. Come cazzo faccio a fare una roba del genere? Come cazzo faccio a fare una roba del genere. Ok. No. 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 il corrido che devo fare me non è facile eh ce lo quasi no, troppo presto eeeh mi sape qua andiamo verso il game over ecco l'ultima vita eh si checkpoint ma per finta tanto qua deve pur esserci un modo per farmi ragionare apposto game over ma se ricomincio quante video quante vite mi date se ricomincio non posso fallire fallire in modo diverso intendo no che cazzo fai dai ma perché è andato tridimensionalmente che palle no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E niente, ho provato a saltare ma non l'ha fatto. Grazie. 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 Mi ha fregato Quello spiraio Eh vabbè Non posso fallire Fallire in modo diverso Intendo Cioè Un bel inizio direi Un bel inizio Un bel inizio direi Non Ah Cazzo no Stavo che andavo un po' più indietro Eh no Lì c'è la bomba Non conviene esplodere Un bel inizio direi No Gribbio Proprio lì Ah Ah Un bel inizio direi Un bel inizio direi Un bel inizio direi No 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 Dai Ma perché mi hai spinto lì Malefico cornuto Malefico cornuto Tutti vogliono bene In questo gioco Estzi Un bel inizio Un bel inizio USB Un bel inizio no no Grazie E siamo di nuovo qui No dai maledetto spicchio Fottuto palengo Eh vabbè niente Che rottura di cazzo No Posto cominciamo da cazzo Eh vabbè Eh vabbè 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 Io potrei pure andarmelo a farmare un po' di vita Questo ne sono consapevole però vabbè Non posso fallire fallire in modo diverso intendo cioè crash Oh no 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 va beh Grazie a tutti. 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 Okay. Okay. a tutti. Grazie a tutti. morire a tutti. il modo è a tutti. è a tutti. 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 Sì. a tutti. quindi. Dai, mi servi, come faccio? Eh, alleluia. Niente, mi sono dato troppa spinta, me ne devo dare di meno. Sì, non è vero. Ma che fa, oh? Oh, l'ho premuto il tasto. Niente, non la vuole fare. Eh, non capisco. Vabbè, fanculo. Senti, io mi farmo un po' di vite, va. Posso andare avanti così. No, no. Andiamo a farmarci un po' di vite, perché così non si può, dai. Andiamo in livelli più easy, mi farmo un po' di vite e poi ci dormiamo. Almeno abbiamo più tentativi. Andiamo proprio ai primissimi. Lì stiamo tranquilli, però facciamo cazzate. Alla prossima. Invertita Oh dai proviamo l'invertita Almeno non mi faccio un po' di vite Perché veramente È un parto così Perché è un donno? No aspetta aspetta No 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 Non voglio fare questo Voglio le vite Sta roba strana non mi interessa No no ma questa cazzata A me servono vite Non sta roba No 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 Quello a tempo no Mi leva le mele, mi leva tutto No, 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 niente a tempo Non mi interessa Io devo farmare vite adesso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vai, facciamo il bonus No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ok andiamo a fare il secondo mi farmo questi che sono livelli basic ce ne facciamo un po' e poi andiamo a fare quel livello ovviamente attenzione a non morire perché insomma mi sto impegnando per non crepare e poi ci crepo non è il massimo non è il massimo Grazie a tutti 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 Non ho scordato di questa parte Non ero completamente scordato di questa parte Grazie a tutti 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 Oh, ho dimenticato che lì c'era la bomba Completamente dimenticato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo un po' Uno, due, uno, due, tre, e via Aspettiamo No, due, una, due, uno, due, due, la, студ Chiuso, aperto, chiuso, aperto. Ok, e ora rifacciamo l'altro. Quante vite stiamo? 15, ok. Eh, fra un po' riprendiamo la parte finale, va? Oh, cioè, comando, concentriamoci, anche perché in questi livelli non devo perdere vite. Altrimenti non avrebbe senso farmare. Vai, vai così. Quello che è TNT, se ne va a cagare. Non voglio sfregare le vite così, ok? 18, buono. BANUS Alla prossima Ok, dovremmo essere a 20 adesso Sì Già 20 non è male Ok, ora per il Nomsko Dobbiamo correre veloci E poi è finito Vai vai Crash vai Corra, corra signor Crash Eh vabbè il diamante si incula Non stiamo facendo questo per i diamanti Corri, corri, corri 21, ottimo Vadi, vadi ragioniere, vadi Non ci incischi 1, 2, 3, 1, 2, 3 Non indugi, non indugi con segugio Olè Ok, bravo No, 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 non fare minchiate Non sei qui per perdere vite 22, ok Ok, posto Allora Sono indicito Non so se andare a provare O farmare qualche altra vita Oh, quasi quasi un ultimo giro Lo faccio, dai Faccio un ultimo giro E poi andiamo Un ultimo giro di farming E poi andiamo a fare la parte finale Oh, no, 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 no Eh, stavolta me lo so ricordato Quando c'era la bomba, eh La bomba che scoppia di bombe La prima volta Fatto prima me ne l'ho scordato Vabbè, comunque l'importante è non morire Altrimenti Che vite sto farmando Se mi metto a morire Sì, sì, sì Grazie a tutti Banos Occhio qui eh, se non sto attento qui può spuntare una minchiata e non deve spuntare Perché non sto facendo questo per perdere vita Ma per guadagnarle Dai tira l'oggettino Posto Dentro, fuori Dentro, fuori Dentro, fuori Allora rifacciamo l'altro e basta Vediamo un po' di dragon fruit va Che ci sta Vai Comunque sto crash Devo dire che mi è piaciuto parecchio Molto figo, molto figo Anche tosto, cavolo se era tosto Molto, molto tosto Non ho mai giocato un crash così difficile Molto figo Molto figo Molto figo Allora Molto figo no 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 eh non sto qui per perdere vite ho detto e parlo aramaico 1 2 3 4 5 direi che 30 vite non sono male ok ora c'è la costretta dai crash su ultimo sforzo e poi andiamo a fare le cose serie va a ver si ho visto che la bam su 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 correré scattare no 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 finito quindi ora si torna si torna a sclerare aspetta non posso andare direttamente lì mi devo fare tutto il percorso da capo si so che siamo obbligati va bene dai gli facciamo tutto il percorso no 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 eccoci qua vai riproviamo però abbiamo più vite almeno più tentativi e la cosa è già più interessante rispetto a prima questo questo sicuro non posso fallire fallire in modo diverso intendo cioè questo sicuro solo si si dai Grazie. Madonna che liscio Eh qui rischio ogni volta Ok Ok Deve pure esserci un modo per farlo No cazzo perché? Perché sei andato lì? Cosa di idiota Vabbè però così Così non è regolare Ho capito che hai tante vite Ma non le fare ste cazzate Eh sì hai visto? Eh siamo alla parte finale Zio bello Qui si fatica Si fatica Molto tosto eh Questa parte finale è veramente Molto molto difficile Eccola lì Fino di massima concentrazione 3 4 Ok No non dovevo saltare Ragazzi Eh vabbè Qui basta fare un errorino piccolino E lo paghi tutto Calma Perchè non posso essere? Ragionevole come me Ok Ok Questa parte l'abbiamo fatta E ora siamo di nuovo qui La vera parte difficile Perché in realtà quella era la parte soft Questa ora è la parte tosta Se facciamo questa Ci dovrebbe essere direttamente il boss finale Abbiamo finito Buono eh Sei buono La cazzo L'alba Questa parte Ok, ok, a posto! Mi dai il potere, per favore? Mi dai il potere? Fare lo stronzone, eh? Vabbè, niente, fanculo. No, dai, ci dico se è arrivato. Dai, non hai preso la maschera, eh vabbè. No, eh vabbè, faccio sti cazzate, faccio. Il sincronismo è importante qua, fa sbagliare una cosa e ti fotti male. Vieni, mi sono fregato un salto. Checkpoint, ok. Ok, buono, vai. Mi dai il potere? Grazie. Ho fatto una cazzata. Sì, ma come devo fare qui? Eh, e lì come faccio? Ok, ok. Ok, ok. devo essere rapido a quel punto è notato infatti che esplosa male ieri comunque siamo quasi alla parte finale qua sto sclerando come un pazzo non puoi capire la parte finale di una difficoltà disumana non puoi sbagliare una virgola appena fai un minimo errore sei fottuto sarola è disumano questa casa è disumano e no dovevo essere più rapido dovevo essere più rapido lì e mo che faccio qua non è niente non riesco mai arrivare a quell'altro cazzo niente non riesco non riesco non riesco non riesco a prendere con la mascara non fa tinta ok stavolta è buono ok no cazzo ce l'ho quasi arrivato ero quasi arrivato alla fine cazzo non riesco a prendere con la parte No, non è stato in tempo Però siamo vicini Ci stiamo avvicinando No No Maledizione, sempre di poco sbaglio Come ti divertirai quando farai questa parte Ti divertirai moltissimo Guarda, quasi ti invidio Proverai delle emozioni, guarda No Cozzarola L'ho schivato Mamma mia come l'ho schivato, cazzo No, lì dovevo fare la trotta Ho sbagliato Dai, dai Su, su Dai, me l'ho premuto il tasto Perché non me l'ha fatto No, vabbè qui Ottopado No, vabbè qui è lento a premere il tasto. E basta che sbagli di un secondo sei fottuto. No! E niente eh, non ce la vuoi proprio fare ad andare lì eh. Bastardo. Yabbe niente. Oh 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 oh. Mamma mia ragazzi che agonia Non nego che la mia concentrazione in questo momento è andata un po' a puttane Questo ovviamente non lo nego, non lo nego Ma noi non molliamo, noi non molliamo mai Anche con la concentrazione di merda Ok, ora dovremmo essere al final boss Passato smascherato Vai Vediamo un po' di che si tratta Brava, no non ho ancora cambiato sesso comunque Ma cos'è sto coso? Un robottoni? Avete una vaga idea di quanto fossi ostinato un tempo? Sì Devo impedire a lui di creare te ma non posso ucciderlo o ucciderei anche me E cazzo? Ego suppongo proprio che dovrò uccidere te Sì, cazzo ha cambiato sesso E che è bravo Hai fatto un salto sullo Sparamatic? Non vale Accidenti Ci siamo Hai fatto un salto sullo Sparamatic? Non vale No, due Tre Uno Due Tre E una botta è andata Mi ricordo il boss finale di Sonic Che si rischiava di cadere di sotto Sparamatic! Spanate! Due Tre No Due Tre Vai Ufff E mo' che devi fare sto ballo da me? No, no, qui devo stare giù, devo stare Unicchi laser, fuoco! Tento puzza di pulci bruciate Ufff E ora Sotto sopra Cazzo, allora, non ci capisco niente Sì, il tuo mondo è tutto sotto sopra Travi sconcerto, confusione Cazzo E vabbè, è cribbio però Ma quant'è ne fa, oh? Chi siamo? Sotto sopra Chi Chi Si sente una ceppa di minta, hai capito? Aia, aia, aia! Aia, 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 aia! Aia, 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 aia! Aia, 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 a Oh, come lo colpisca quello io. Dove sta l'assistente? Rinuncia. Ok. Basta, se non stufo delle vostre bravate. Madonna. Oh, è sempre meglio, eh. Capo di puttana. Assistente, aiuto! Eh, dove sta l'assistente di minchia? Oh, ma voi siete pazzi? Ma che cazzo di delirio è? Madonna. Mi sto capendo una minchia. No, dai, mi è apparso l'uovo davanti. Accidenti. E niente. Eh, mi sa che dovremmo rifarlo, eh. Le vite stanno per finire. Mamma mia. Eh, niente. E niente, devo rifarlo. Vai, ricomincia. Quella è la parte finale, comunque, eh. Infatti ne aveva evocati tre. Se li colpivo tutti e tre avrei vinto. Vabbè, li riproviamo. Ok, vai. Vai. No, no, ma ce la faccio. Vai tranquillo. È easy, è easy. Ce la faccio, ce la faccio. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Due. Due. Tre. Vai. E due. Tranquillo, tranquillo. Mo' la mandiamo a casa. Anichilarle. Fuoco. No, questo era quello a base. No, questo era quello a base. Da, ècrivio. No. devo stare al centro no, non cadere di sotto no ok ok accidenti accidenti assistente aiuto e con questo ho vinto a stare a vista, bello no, non così the winner is io eh? ti è piaciuta, eh? ti è piaciuta Cortez la sorpresina, eh? devo aver preso un colpo al lobo temporale ma un nemico a terra significa solo una cosa ci siamo battuti e io ho vinto il primo ordine che darò al mio nuovo generale sarà di spararsi di te ora siamo più vicini che mai presto, nel vortice ma dottor Cortex il vortice non è pronto ma anche a me ma cosa posso fare? un altro fallimento questo spiega tutto resta che cosa mi vorresti fare? ah 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 sembra proprio che qualcuno stia per essere messo in castigo dove non potrà causare altri vai? un'altra vittoria per il team di Crash il Dingo's Diner ha finalmente riafferto i barretti venite a scoprire piatti deliziosi ispirati ai miei viaggi interdimensionali godetevi la barrezza delle nostre esclusive sole con tre pareti Dingo's Diner classificato dal ministero dei come delizioso dei una valutazione negativa e lo stabber delizioso dove è finito questo? in una landa desolata? ah ah ci sono al minuto almeno non ha più Crash degli altri tra le palle no? Dai, un lieto fine anche per me 5, 4, 3, 2, 1 Budugo! E quello chi è? Sarà quello che ha creato il gioco In memoria of Mel Winkler Mel Winkler Chi cazzo è? Mel Winkler Non avresti dovuto giocare a questo gioco Se soffri di allergia e vumpa E ritema di crash Fobia delle dimensioni alternative Fobia delle piacere Fobia dei sequel Fobia di risucchi Ottiene sempre ruoli minori nei film E deve la sua fama soprattutto al doppiaggio di Ah, lui doppiava Aku Aku Era il doppiatore originale della maschera Quella che ho io accanto a me Hai capito Hai capito Però Comunque stavo tosto Veramente è una bella sfida Se solo finire i livelli base Senza fare i collezionabili Era arduo Abbiamo sempre parlato bene di te Ti abbiamo anche fatto i complimenti Per il tuo taglio di capelli Gli ospiti di Crash Soggiornano al resort Insane Beach Suite Secondo me Alty Avrà grossi problemi Quando dovrà giocare questo gioco Sclererà come un animale Alty Non vedo l'ora Non vedo l'ora di gustarmelo Eh? Tu credi? Boh non lo so Dimmelo tu Alty Non sclererai? Lo finirai liscio? Eh magari non lo so Magari sei un fenomeno di crash Vabbè diciamo che Magari all'inizio Andrà tranquilla Cioè io considera Gli ultimi stage ho avuto grossi problemi Soprattutto l'ultimissimo Perché sennò Durante il gioco Ogni tanto morivo Ma niente di tremendo Però I capitoli finali Mamma mia Cioè devi avere proprio un tempismo Le dita magiche Cioè spena sbagli una virgola PAM muori PAM muori Ah e ovviamente devi mettere con le vite Come ho fatto io Non mettere con le vite infinite Non ti permettere Perché se vedo che metti le vite infinite Ti denunzio E attenta Con le vite limitate Era un bel dito nel sedere No cosa Cosa no Oh ci provare eh Devi giocare come ho giocato io Modalità classica La modalità classica di crash Altrimenti Ogni checkpoint È vite infinite Chi si è visto si è visto Va bene va bene Dai poi più tardi Quando mi sveglio Vado in fumetteria va Vediamo se c'hanno Quel manga lì E lo prendo È da un bel po' che non mi compro un manga L'ultimo era quello Vita da Yamco Molto carino Lo consiglio È una versione alternativa parodica Dove Yamco è il protagonista di Dragon Ball È un unico volume Sanno anche dei riferimenti Ai gacha Per cellulare di Dragon Ball No 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 Che vite infinite Eh no Sono bravi tutti così La vittoria deve essere proprio Piena Deve essere proprio una cosa Che te la senti sulla tua pelle Vabbè Comunque abbiamo finito Grazie Arrivederci Ripro a giravolta È molto utile C'è ancora sì tanto da fare Sì sì Se lo fa Se lo fa Alti il gioco al 100% Io mi accontento Io resto umile Resto umile E mi accontento Quindi preparatevi Perché vedrete Alti Giocare a questo gioco E finirlo al 100% Con tutti i collezionabili Eh Preparatevi Preparatevi Perché ne vedrete Di tutti i colori Brava Alti Allora se lo finisci al 100% Forse ti faccio anche la sub E non la sub Gratuita Pagando Proprio pago Di tasca mia Prendi i soldi E poi vediamo un po' Di cominciare Un nuovo prodottino Un nuovo prodottino Chi vivrà vedrà Quindi vabbè Immagino che ora Alti andrai al lavoro Quindi preparati Mi raccomando Il tuo primo giorno di lavoro Finalmente Alti diventerà Una donna Quindi passa ad avere 4 anni Ad averne Una cinquantina Buono Brava Alti Nel nostro cinquantenne Tutto Pepe Zio Bello Mi raccomando Non perdere altri polpastrelli Sul lavoro Che poi Sono dolori Dolori di panza E di sostanza Per il resto Che dire Dai Per oggi È tutto Dal vostro light Salutiamo anche Aku Aku Che è stato qui con noi Che poi non sapevamo manco Del doppiatore storico Che è morto nel 2020 Niente male Una bella perla Che ci ha regalato il gioco E va bene Va bene Dai Quindi che dire Per oggi è tutto Dal vostro light Hasta la vista Budaga